Il centrodestra raggiunge una parvenza di accordo al termine di quattro ore ed oltre di trattative, di discussione nel corso del vertice, dell'atteso vertice a tre fra Berlusconi, Salvini e Meloni che si tiene ad Arcore, nella casa di Silvio Berlusconi, non a caso perché è sempre lui il padre padrone del centrodestra italiano, che mai come adesso torna a credere nella vittoria. Ecco che nel vertice di queste ore gli ostacoli restano ancora sul campo, non c'è un accordo preciso sulla spartizione dei collegi, che è forse il vero nodo da sciogliere. Non vengono superate le divergenze sul programma. Forza Italia resta convinta che la flat tax debba essere al 15%, Salvini al 23%, e così anche sulla Fornero, che Salvini vorrebbe cancellata, gli altri soltanto rivista e modificata. Ma non sono queste le cose che contano, sono gli aspetti di sostanza, e cioè che comunque una coalizione va portata al successo, deve raggiungere il 38-39% e conquistare così la maggioranza dei seggi. Su questo i tre sono assolutamente d'accordo. Quello che era imprevedibile, imprevisto, e che è stato imprevisto oggi, è l'esplosione del caso Maroni. Il governatore uscente del Lombardia annuncia a sorpresa che non si ricandiderà, non cercherà di riconquistare il Pirellone, cosa che era abbastanza probabile al secondo mandato. Rinuncia, non si candida neanche in Parlamento, e questo apre un grosso problema all'interno della Lega, intanto, perché Salvini non si attendeva a questa mossa, aveva dato per scontato, scontata la ricandidatura, e apre un grosso problema all'interno del centrodestra, perché si scatena un nuovo braccio di ferro tra Forza Italia e Lega, proprio su Milano, ma a sorpresa rende contendibile la Lombardia, cosa nella quale il PD quasi non sperava. Il PD punta sulla candidatura di Gori, e adesso Renzi e il Partito Democratico credono possibile la conquista del Pirellone. È un'altra partita che si apre.